Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un po' il recap di quello che è successo in questa settimana, un po' turbolenta perché dopo i rialzi della domenica Bitcoin ha iniziato invece a tentennare, a fare un trading range laterale ribassista per riappoggiarsi a quelle che sono le due medie mobili, quelle che stiamo guardando. In particolare l'atteggiamento svolto da Bitcoin in questa settimana è molto tecnico, un atteggiamento di analisi tecnica abbastanza standard, cioè il rimbalzo dopo il touch di una media mobile che è diventata stranamente importante, precedentemente negli anni scorsi non era così ma con l'atteggiamento di Bitcoin dell'anno 2023 che è diventato molto più vicino a quelle che sono le oscillazioni nei mercati tradizionali e quindi con sabati e domeniche che solitamente non hanno grande impatto, infatti anche la domenica 1 ottobre come quella di quest'anno è stata riassorbita sostanzialmente, anche in questo caso il touch della media mobile a 200 periodi, la SMA, quindi la media mobile semplice, quella istituzionale diciamo così a 200 periodi, è diventata un'area di resistenza perché già Bitcoin due volte era andato a testarla. La prima dopo averla rotta in questa fase nuova del ciclo annuale che è stato abbastanza rialzista, ha fatto i massimi intorno a 30.000 e qualcosa, dopodiché ha breccato questa media mobile a 200 periodi e ha fatto poi successivamente il pull up, quindi della media per testare, per vedere insomma se effettivamente questo break era validato. Così è stato infatti è andato a disegnare poi un altro minimo, minimo che però non è stato estremamente profondo e questo ha aiutato sostanzialmente poi un recupero in questa fase da metà settembre, recupero che di nuovo è andato al touch proprio di questa media ma ancora una volta non è riuscito a breccarla. Quindi sostanzialmente una settimana che definiremo settimana tecnica per quanto riguarda di Bitcoin dove ha creato dei movimenti di natura tecnica. Successivamente vedete ieri si è adagiato su queste medie che sono invece le nostre due medie mobili che utilizziamo sempre la 11 e la 21 in questo caso, si è adagiato su queste medie e poi piano piano insomma sta tentando di recuperare. Un laterale ribassista classico che teoricamente si sposa anche alla perfezione con quello che è la struttura ciclica perché da questo minimo del 11 settembre si è adagiato sicuramente un nuovo ciclo mensile per quanto riguarda Bitcoin, probabilmente un nuovo trimestrale. andremo poi a vedere effettivamente se questo trimestrale è insomma corretto eccetera, insomma fatto in una posizione, un conteggio diciamo corretto a livello ciclico. In teoria il ciclo mensile classico, quello che però Bitcoin non sta ripetendo tanto spesso, dovrebbe chiudere mercoledì 11 ottobre con i classici 30 giorni eccetera. A dire la verità negli ultimi periodi sta un po' facendo cicli o da circa 40 o da 20 e sta sfasando moltissimo anche la ripetitività ciclica. Tanto è vero che per esempio nell'ultimo ciclo trimestrale aveva fatto delle strutture molto anomale come il 21 qui, poi aveva creato una specie di 47 in questa zona, poi un ciclo invece di struttura, una specie di lingua di Bayer a chiudere il trimestrale di 20, quindi aveva fatto 20-20-47, insomma aveva spasato un po' tutti i conteggi. Qui sembra essere ritornato in versione standard a livello di conteggio ciclico, in ogni caso in teoria dovremmo andare a chiudere con una fase laterale di bassista anche questa zona qui. Vi faccio vedere anche un altro grafico che è molto importante per quanto riguarda Bitcoin, cioè quello che ho mostrato ieri sul mio profilo X ragazzi. Vi lascio il link in descrizione perché sto pubblicando una serie di post anche di analisi più veloci, insomma per essere più veloci. Questo era quello che avevo indicato ieri con la possibilità che Bitcoin facesse un terzo movimento di questo ciclo da 13-15 giorni e che abbia già teoricamente fatto il massimo in questa zona e quindi in pratica stia facendo un laterale ribassista e teoricamente a meno di questioni strane dovrebbe chiuderlo proprio in barra di congestione, quindi senza andare a fare grandi movimenti. Sempre nell'analisi pubblicata ieri su Twitter ho anche indicato che in realtà non esiste alcuna forma di vincolo e che teoricamente potrebbe fare nuovi massimi perché a livello ciclico non esistono vincoli. Quindi però solitamente la struttura, se è così, è corretta questa forma ternaria classica e l'ultimo movimento quando c'è un narro, quindi una struttura tipo un naso molto pronunciato al centro è di solito laterale, non è un movimento propulsivo, ecco diciamo così. Tra le altre cose si è andato a stringere in una sottospecie di triangolo che ovviamente sfocerà in una direzione. Considerate che qui parliamo di un time frame a 90 minuti, quindi operazioni di brevissimo queste. Infatti questo ciclo teoricamente chiude intorno a lunedì e martedì, come vi dicevo, alla fine di questa settimana in pratica. Questione differente per quanto riguarda ETH, ETH ha infatti provato il break di questi due livelli di media che sono importantissime per la regione delle cripto in quanto sta scendendo in sostanza anche Ethereum da aprile e sta facendo questi impulsi laterali ribassisti un po' più pronunciati, quindi sono delle fasi che fanno delle lateralizzazioni, poi però impulso ribassista, di nuovo lateralizzazione, impulso ribassista, lateralizzazione. Quindi sta in pratica creando una struttura discendente, un trend discendente molto, cioè non molto pronunciato, però comunque più importante rispetto a quello che abbiamo visto su Bitcoin. E anche questa volta, in pratica, il break di questi due livelli di media e l'impulso che aveva avuto domenica non è stato sufficiente a dargli la continuazione, tant'è vero che poi nei giorni scorsi ha fatto uno, due, tre, quattro candele tutte rosse, ha perso anche forza relativa con Bitcoin facendo un nuovo minimo del super grafico che vediamo sempre, quindi non dichiarando la questione ciclica di questo grafico conclusa nella settimana del 18 di settembre, in pratica facendo un nuovo minimo allunga ulteriormente questa struttura ciclica. Ricordo che è atteso su Ethereum o Bitcoin una chiusura importante di un quadriennale, è anche vero che, come dicevo anche nel video che vi ho fatto sull'approfondimento di ETH, non c'era stata un ribasso pronunciato e che quindi, insomma, in questo caso Ethereum non aveva dato un segnale molto netto, insomma, di aver chiuso quella struttura ciclica. Se non che, da questo punto di vista, anche la regina delle cripto è molto da attenzionare, perché sicuramente qui è iniziata una nuova struttura che, facendo riferimento alla precedente, può essere considerata anche un ciclo di natura trimestrale, però qui siamo a 24 giorni. Ora bisognerà vedere se ETH fa un mensile classico da 30 giorni oppure fa un accorciamento come il ciclo precedente, vedete, è stato 25 giorni il ciclo precedente, qui ha fatto 24. Ora bisogna capire se qui iniziamo a salire in maniera importante e magari cerchiamo di fare nuovi massimi rispetto alla domenica dell'1 ottobre e magari semplicemente portandoci sui 1800 che poi è un livello di resistenza impressionante, ragazzi, 1800 e poi i 1900 per quanto riguarda Ethereum. Allora qui potremmo dichiarare magari un primo movimento, un mensile corto da 24 giorni inconcluso. Al momento è solo una mini candeletta verde che non ha alcun ruolo in questo momento nella struttura ciclica, quindi bisognerà attendere. Teoricamente il ciclo classico è intorno ai 30-35 giorni e quindi dovrebbe andare a chiudere anche lui la prossima settimana, quindi sabato 14. Quindi in pratica dovrebbe essere iniziato un ultimo movimento che fa una cosa del genere e chiude questa struttura ciclica e poi si vede. Quindi anche nella struttura di ETH ha fallito il primo tentativo di uscire da questo canale ribassista. Canale ribassista che ancora regge ed è una struttura molto simile alla precedente, quello che era stato creato qui, quindi vedete c'è molta simmetria. Anche qui siamo a livello di analisi tecnica. Solo una fuoriuscita da questo trend ribassista cambia letteralmente il gioco e indicherebbe anche che qui è stato chiuso un ciclo superiore probabilmente, quindi anche un annuale. Perciò Ethereum deve dare risposta. E ancora una volta la questione annuale sì, annuale no. da giugno 2022 o da novembre si è fatto una correzione con una lingua di buyer corta o meno. I ciclisti, insomma, chi di voi ha esperienza, quello di cui sto parlando, ne abbiamo parlato tanto spesso. È ancora totalmente aperta e bisognerà attendere una fase di chiusura. Un ultimo accenno alla Nasdaq che in questa fase ha tentato un mirabolante recupero nei giorni scorsi dopo una fase di nuova struttura di doppio minimo qui. È attesa ancora una fase di congestione fino alla fine del mese. Attenzione però perché da qui potrebbe iniziare una nuova struttura ciclica importante anche per Nasdaq, un nuovo ciclo, infatti, annuale, anche se contrasta un po' con le previsioni economiche o la questione del debito americano. A proposito, cosa ne pensate del debito americano in perenne, diciamo, trend positivo? Sembrano fermarsi mai, molti dichiarano che è fuori controllo, insomma, eccetera. Cosa ne pensate su questa cosa? Fatemi sapere perché volevo fare un video proprio ad hoc per questa. argomento. Va bene, per oggi è tutto un breve, una breve rassegna cripto. Noi ci rivediamo nel prossimo video e buon fine settimana a tutti. Ciao!